Un progetto realizzato da giovani per giovani Un progetto che ci sta dando molte soddisfazioni soprattutto per le realtà che conosciamo che sono realtà di coraggio il desiderio di dare visibilità a dei nomi nuovi della moda italiana Sono storie di talenti che grazie al coraggio riescono a trovare uno spazio anche in un momento di apparente o reale crisi E quando c'è talento alla fine il coraggio viene sempre premiato Essere qua e partecipare a questo progetto dell'Università della Sapienza è decisamente importante Sono giovani valutatori che promuovono giovani designer Sono contento perché comunque essere riuscito a entrare nel vostro database è un riconoscimento Siamo sulla strada giusta vuol dire che siamo insieme a persone che con noi stanno facendo un percorso di crescita un'opportunità, un'opportunità di visibilità del brand un'opportunità di creare dei contatti di creare dei link di creare un network Sono una designer che ha scelto di rimanere a Roma cercando comunque di lavorare anche con l'estero cioè stabilire dei legami internazionali che però partano da qui Voler puntare l'attenzione e l'interesse e non solo in maniera fissa ma anche con aggiornamenti insomma in divenire su chi inizia e su chi emerge su chi mette la passione nel mondo della moda trovo che sia un progetto molto interessante Far parte di questa Università di Valmarsi significa un po' chiudere o comunque dare un proseguimento al mio percorso all'Università alla Sapienza Ho conseguito la laurea lì nel corso di Scienze della Moda e del Costume mi sembrava doveroso essere qua mi fa piacere essere anche stata scelta e per me è stato veramente piacere Questo tempio dell'arte e dell'architettura va a braccio sicuramente con la moda e con tutto ciò che è creatività con tutto ciò che è altro Maxi è un museo di arti contemporanea del ventunesimo secolo avere la possibilità di essere uno dei partecipanti di questo evento dove si promuove la contemporaneità è sicuramente la cosa più importante della serata il mio gradimento per questo progetto di Fashion Index perché è stata un'esperienza molto positiva una bella esperienza bella, carina, nuova e soprattutto lusingato appunto dalla scelta della sapienza credo fortissimamente in questo progetto che tra l'altro mi ha portato molta fortuna perché da quando ne faccio parte se non successe cose belle Vi ringrazio, è una grande opportunità io poi sono legata come ben sai al mondo dell'arte contemporanea che viene dal mio background culturale dai miei studi quindi per me è un onore stato veramente importante Sicuramente positivo sotto tutti i punti di vista Ogni piccolo elemento di Fashion Index e di moda sapienza è fatto da tante persone la mia squadra, se mi permettono sono anche gli stilisti che sono con noi e che hanno deciso di prendere parte a questo progetto